Sabato pomeriggio, nella sala Borsellino a San Cataldo, si è tenuto un incontro guidato dallo scrittore Gianfranco Cammarata e dalla poetessa Maria Concetta Naro per parlare di arte e cultura. Sono incontri periodici che si tengono mensilmente, dove attraverso dei gruppi di lettura accompagnati a momenti musicali si parla di realtà attraverso la cultura. Come ogni mese, intorno alla metà del mese, noi facciamo questi che chiamiamo gruppi di lettura, ma bisogna specificare che qui leggiamo la realtà attraverso le arti e la cultura, non leggiamo solo libri. Infatti stasera noi abbiamo ospiti due musicisti, una pianista e un cantante, Emma Vitale e Marzia Lessi, abbiamo un regista che ci parlerà del suo ultimo film, Michele Falzone, e abbiamo uno scrittore, stasera cominciamo anche con i collegamenti in video, che ci parlerà dalla Toscana, Giuseppe Ferreri tratterà un ritrovamento molto importante della villa del Casale di Piazza Armerina. In più ci saranno tanti interventi del pubblico, che adesso non so neanche quali siano, perché tutto accade nell'ottica della sana improvvisazione.